Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video, in questo video voglio mostrarvi il calendario dell'avvento di Alverde sono usciti ieri che era il 14 calendario dell'avvento del Diem io quest'anno ho acquistato quello di Alverde e quello di Balea vedrete poi in seguito anche il video dello spacchettamento del calendario di Balea e vi lascerò poi il link di quel video nell'info box e tra le schede il prezzo del calendario dell'avvento di quello di Alverde è di 19,99€ e ha 24 caselline quest'anno non credo di acquistare quello di Trendy Tap perché l'ho acquistato per due anni di seguito e più o meno ci sono le stesse cose, cambiano magari i colori però più o meno le cose sono le stesse quindi non l'ho preso c'era anche quello con il cibo biologico ma erano tanti piccoli snecchini e costava 25€ quindi niente, quest'anno mi accontento di questi due calendari anche perché diciamo che la scelta di vivere in maniera più ecosostenibile non coincide proprio con i calendari dell'avvento però non ho saputo resistere allora vi mostro il calendario dell'avvento di Alverde che sicuramente non riuscirete a vedere tutto intero nel video perché non ci starà comunque il calendario in questione è questo ed è veramente molto 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 bello io ho messo anche da parte la plastichina che c'è appunto scritto in italiano che cosa qua si troverà nelle varie caselline allora partiamo, non starò tutto il tempo con il calendario in mano perché sarebbe noiosissimo allora parto dalla casellina numero 1 allora nella casellina numero 1 abbiamo una crema mani alla vaniglia e a qualcos'altro che non so tradurre una mini crema mani da 20 ml carino anche la grafica natalizia perché due anni fa il calendario dell'avvento di Alverde aveva all'interno delle mini taglie ma non avevano il pack natalizio invece l'anno scorso e quest'anno sì e devo dire che sono molto carine nella casellina invece numero 2 eccola qua abbiamo questo all'aloe vera che è, aspettate che devo controllare perché questo non lo so tradurre un bagnoschiuma all'aloe vera un mini bagnoschiuma, un campioncino da 25 ml con il cavalluccio a dondolo carino poi casellina numero 3 se riesco a trovarla, eccola allora nella casellina numero 3 abbiamo una mini taglia di doccia schiuma alla lavanda questo bellissimo e la profumazione di lavanda è veramente molto buona eccola qua casellina numero 4 riesco a tirarlo fuori dalla casellina eccolo qui abbiamo credo una maschera per il viso maschera idratante Hydro quindi eccola qua io credo, non vorrei sbagliarmi credo che però questa sia la versione diciamo natalizia di quella che è in linea permanente credo bellissima con appunto l'uccellino casomai poi vi faccio un'anteprima più da vicino dei vari prodotti nella casellina invece numero 5 abbiamo credo una lozione per il corpo lozione piedi alla vaniglia e alla corteccia di salice da 20 ml carino e allora anche nella numero 1 avevamo vaniglia e corteccia di salice eccole qua queste mini taglie sono comodissime non solo per il viaggio ma anche appunto da utilizzare io ad esempio i prodotti per i piedi o per il corpo mi durano tantissimo e la mini taglia riesco a smaltirla prima e a utilizzarla più volentieri quindi mi fa piacere nella casellina numero 6 abbiamo una cosa lunga invece vediamo oh oddio allora nella casellina numero 6 abbiamo il contorno occhi questo qua della linea Hydro Roll On io questo contorno occhi lo sto utilizzando da qualche anno tipo due anni tutti non finisce mai mi piace per l'estate perché è bello rinfrescante per l'inverno per me è acqua fresca e non ho un contorno occhi particolarmente secco lo sta utilizzando adesso tutti i giorni mia sorella non finisce, non finisce mai vedrò se regalarlo o darlo a mia sorella questo sicuramente non lo andrò a utilizzare perché non ne posso più casellina numero 7 abbiamo uno shampoo allora shampoo nutriente alla mandorla bio e all'argan eccolo qua carino io non ho i capelli secchi quindi forse questo lo regalo però molto carino nella casellina invece numero 8 abbiamo credo il balsamo vediamo balsamo nutriente mandorla bio e argan quindi abbiamo la combo per i capelli shampoo e balsamo da 50 ml casellina numero 9 che carino questo allora nella casellina numero 9 vediamo un po' in italiano lozione corpo alla rosa bellina con lumino di pan di zenzero molto molto carina casellina numero 10 anche qua abbiamo una cosa piccola piccola che non si apre un'altra bustina vediamo un po' di che cosa credo sia una maschera per le mani maschera a mani ai mirtilli bio e alla noce del Brasile carine queste accoppiate un po' strane di ingredienti bellina anche la maschera è utile la maschera a mano perché in questo periodo ho le mani secchissime quindi credo che questa sarà la prima che andrò ad utilizzare poi casellina numero 11 che dov'è? eccola qua oh carino che cos'è lip questa è una maschera per le labbra credo aspetta scusate se devo andare ogni volta a vedere la traduzione ma maschera labbra al miele molto interessante molto carino io adoro i prodotti per le labbra questo è da 8 ml e c'è anche in edizione permanente mi sembra questo qua mai provato e quindi lo proverò molto volentieri poi alla numero 12 abbiamo un bagno schiuma alla mora bellissimo con il trenino carino molto carine le confezioni di quest'anno anche l'anno scorso non erano male poi numero 13 vediamo un po' cos'è numero 13 abbiamo una lozione per il corpo alla lavanda quindi va accoppiato al bagno schiuma che abbiamo trovato prima molto carino adoro la lavanda poi casellina numero 14 eccola qua abbiamo un peeling per i piedi al limone e zenzero interessante l'anno scorso l'anno scorso il peeling per i piedi mi sembra di averlo trovato un quello di balea carino poi numero 15 eccolo qua abbiamo un'altra bustina un'altra bustina che è una maschera per capelli alla curcuma e all'arancia interessante e sono due maschere è divisa a metà sono due maschere per capelli utilissime numero 16 eccolo qua abbiamo un'altra mini taglia di crema doccia cotone bio e mandorla bio usiamo anche questo me lo sono messo in bocca la profumazione è molto buona poi numero 17 nella casellina 17 abbiamo un detergente per il viso al tè verde speriamo che non sappia di alcol di solito prodotti per il viso e di al verde sano di alcol speriamo questo no mentre alla numero 18 abbiamo una maschera idratante al fico di india e vaniglia interessantissimo proveremo casellina numero 19 abbiamo invece un bagno schiuma al mandarino questo mi sembra c'era anche nel calendario di due anni fa questo bagno schiuma al mandarino poi numero 20 un altro doccia schiuma al mandarino non ha molto senso mettere due cose praticamente uguali perché bagno schiuma al doccia schiuma cambia poco la profumazione è la classica profumazione agrumata tedesca che si trova un po' anche nei prodotti balea la vera quelle profumazioni agrumate lì che non mi fanno impazzire però come gel doccia questi qua di al verde sono molto buoni poi numero 21 peeling doccia allo zenzero bio e al limone carino molto molto carino poi numero 22 abbiamo un'altra bustina credo maschera per i piedi a questo punto sì maschera per i piedi ai mirtilli alle noci brasiliane bio anche qua sono due maschere per i piedi carino perché abbiamo l'alberello di natale il gattino e il cavallino a dondolo bellissimo il pack poi numero 23 scusate abbiamo una lozione corpo alla vaniglia e alla corteccia di salice bio eccola qua non usiamo molto buona molto molto buona profumazione non saprei descriverla però e l'ultima casellina eccola qua la numero 24 vediamo se riesco a aprirla in questa posizione stranissima un mascara vediamo vediamo un po' quale mascara uh bello è il mascara all in one io questo qua ce l'ho di già è il mio mascara preferito di quelli al verde perché ha lo scovolino proprio a banana è bello cicciottello a banana e bisogna stare un pochino attenti perché appunto lo scovolino è grande però mi piace perché fa proprio in curva un sacco le ciglia e quindi questo qua è uno appunto dei miei mascara preferiti che io utilizzo da anni ho iniziato a utilizzarlo quando i prodotti al verde e balè ancora in Italia non c'erano e se ne parlava pochissimo io già allora ne parlavo perché appunto andavo spesso a Berlino e appunto provavo questi prodotti di al verde e di balè e questo mascara qua l'ho già utilizzato tre volte mi sembra ce l'ho ancora uno in uso sono molto contenta di averlo ricevuto credo che però lo andrò a regalare a qualche amica per farlo provare appunto a qualcun altro però molto molto valido come prodotto mi piace che sia la casellina numero 24 ricapitolando è un calendario dell'avvento che mi piace i calendari dell'avvento di al verde e di balè sono sempre così quindi hanno sempre delle mini taglie in questo caso però abbiamo tre full size rispetto allo scorso anno che mi sembra lo scorso anno c'era una matita labbra full size e poco altro quest'anno abbiamo tre full size abbiamo però rispetto all'anno scorso più campioncini però mi sembra che l'anno scorso all'interno del calendario dell'avvento mi sembra che c'era anche un adesivo e una calamita quindi preferisco avere un campioncino di un adesivo scritto in tedesco ecco quindi ricapitolando mi è piaciuto comunque anche i campioncini sono belli grandi perché sono da 25 ml io con questo doccia schiuma ad esempio di solito ci faccio due applicazioni tre dipende quindi alla fine devo dire che mi è piaciuto mi piace la grafica che hanno scelto e devo dire che anche quest'anno questo calendario dell'avvento è promosso fatemi sapere se voi lo acquisterete se vi è piaciuto insomma fatemi un po' sapere vi volevo ricordare che per chi non avesse un DM vicino su Instagram ci sono c'è un come si dice un profilo che si chiama Alverde Spedizioni e ci sono delle ragazze che spediscono appunto i prodotti che voi volete di Alverde di Balea dalla Germania quindi potete ordinare da loro i calendari dell'avvento hanno un prezzo leggermente superiore e c'è le spese di spedizione però se proprio volete provare qualcosa volete acquistare un calendario dell'avvento io vi segnalo questa pagina così magari avete modo anche voi di poter provare i prodotti di questo marchio perché so che per adesso i DM ci sono solamente nel Nord Italia bene quindi se il video vi è piaciuto io vi ricordo di lasciare un like un commento e di iscrivervi al mio canale perché in questo modo mi sostenete e mi aiutate a crescere io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao 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 a tutti